insomma quando nei giorni scorsi ho scritto sulla community di youtube di quale film state attendendo di più la mia recensione in tantissimi mi avete risposto tenet 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 e quindi tenetevi calmi perché proprio oggi sto affrontando la recensione di questo nuovo film di questo film di cui tanto si sta discutendo in questo periodo con la regia del grande christopher nolan sì ho detto grande già starete capendo che per me christopher nolan è veramente un bravissimo regista mi piacciono i suoi film film che so che dividono critica pubblico film che so creano tantissime discussioni anche sul web ma la bellezza del cinema è anche questa e quindi io con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia sono andato in sala a vedermelo con mio babbo dunque parliamo di questo tenet ma ma da dove possiamo partire insomma film scritto diretto da christopher nolan un film che già prima di vedere avevo sentito aver spaccato in due le opinioni del pubblico è un film incomprensibile no non capite niente è un film assolutamente fantastico ma cosa dice un film mediocre no è bellissimo insomma quando esce un film di nolan sembra veramente di assistere a un torneo di rocky contro creed perché veramente non si sa mai a chi poter insomma dare ascolto comunque ci sono sempre queste battaglie uno potrebbe mettersi lì con i pop corn davanti al pc ma bando alle ciance e parliamone dopo averlo visto dunque tenet lo dico fin da subito è stato un grandissimo film a me è piaciuto veramente tanto ma tanto tanto giustamente sinceramente vi dico che durante la visione tra l'altro un'esperienza in sala straordinaria fra le migliori che abbia mai avuto perché veramente quando si va a vedere un film di nolan non ci troviamo solamente di fronte ad un film ma ad un evento e quindi devo dir la verità io mi sono sentito veramente galvanizzato dopo questa visione però siccome sono una persona sincera vi dico chiaramente che ho avuto molti problemi di incomprensibilità durante la visione del film se voi mi diceste paolo quando mi chiedeste per meglio dire quando sei uscito dalla sala avevi compreso tutto no perché molto spesso sembra che siccome uno fa le recensioni online capisca tutto siccome uno magari ama il cinema e ne parla non può non capire un film invece io sono sincero sono un essere umano come tutti voi e vi dico la verità proprio come quando nel 2010 al cinema vidi inception e provai tante difficoltà nel comprendere ogni passaggio della pellicola anche stavolta mi è successa la stessa identica cosa questo vuol dire che il film sia brutto no perché ora siccome i film non si capiscono sono brutti cioè non è che si può pensare caspita magari nolan voleva comunicarci qualcosa magari è giusto anche rivederlo un film magari non si conosce la poetica di nolan no non si capisce un film è brutto cioè non ci si interroga su quel che non abbiamo capito è più facile dire che sia un film non riuscito invece io faccio i miei complimenti a nolan per il suo tenet perché sicuramente non è uno dei suoi miglior film almeno dopo una prima visione perché se mi chiedeste una lista io non mi piacciono molto le liste lo sapete però se proprio dovessi dirla provvisoria solo per oggi e domani potrebbe cambiare dei prestige risulterebbe sempre in vetta accompagnato anche da memento e in inception lì pronti ad abbracciare dei prestige quindi sicuramente le liste ora le lascio da parte per tornare a tenete un film che il grosso mentre si guarda lo si comprende cioè per dirla in maniera proprio povera e spicciola come riassumere tenet in poche parole dal futuro si scopre che c'è questa tecnologia capace di invertire l'entropia degli oggetti quindi i movimenti c'è questo reverse c'è questo andare all'indietro c'è questa tecnologia futuristica e forse si scopre che dal futuro si vuol dare inizio ad una catastrofe grazie anche ad un algoritmo che impareremo a conoscere durante la visione del film dando vita a questa catastrofe a livello nucleare il mondo così come lo conosciamo cesserebbe di esistere e tutto ciò ovviamente lo si vuol fare per un motivo ma perché dal futuro si mettano in contatto con il presente con il nostro presente quindi con il passato di questi futuristi per dirlo così per far per insomma per far esplodere tutto e ancora di più perché il mondo dovrebbe andare incontro ad una fine quali sono i problemi del futuro insomma questa è la trama proprio in soldoni e quindi bisogna ricercare inizialmente questi proiettili che attraverso questa tecnologia futuristica riescono a modificare il loro moto e quindi andare all'indietro da dove derivano questi proiettili e poi si passa dai proiettili all'oligarca russo che insomma li commercia e quindi è un film che si apre a scatole cinesi a scatole nolaniane è un film ricco di incastri quando io sento dire che nolan ogni volta si diverte a creare dei rompicapi e che per questo motivo non sia un bravo regista io veramente non so nemmeno come rispondere perché allora non andate a vedere i film di un dato autore perché lo sapete che nolan nel suo cinema nella sua poetica è alla continua ricerca di un'innovazione che sperimenta sempre attraverso delle dinamiche delle tecniche che di film in film porta avanti nel cuore della poetica nolaniana abbiamo la scienza la conoscenza della scienza abbiamo una conoscenza filosofica si abbraccia alla filosofia che a sua volta abbraccia la scienza si parla di temi come vendetta come il sogno come il ritrovare noi stessi il nostro intimo più perduto sono cose all'interno della filmografia di nolan che veramente sono all'ordine del giorno come all'ordine del giorno magari è vedere un film nolaniano attraverso una cronologia frammentata attraverso una cronologia non lineare non è del tutto lineare l'evento che magari noi vediamo all'inizio del film magari l'inizio alla fine magari la fine all'inizio magari il tutto si conclude con un cerchio questo è il modo di fare cinema di nolan che sicuramente si diverte a creare rompicapi ma che sicuramente in un periodo in cui il pubblico medio non si vede nemmeno due volte lo stesso film a distanza di 30 anni forse un po risulta efficace questo modo di fare di nolan perché se già la gente io penso non ha voglia di rivedere lo stesso film perché l'ho già visto che lo riveda a fare ma che fai e studi una poesia più di una volta tu l'ho già studiata tu l'ho già letto una volta vai all'interrogazione tanto tu lo sai non è che una poesia si rilegge si rilegge che ti importa ecco siccome tante persone vanno avanti portando avanti questa mentalità se nolan fa dei film che ancor di più necessitano di essere rivisti io sono contento sono contento perché io li rivedrei anche se fossero i film più semplici del mondo perché il cinema è scoperta perché uno può imparare tantissimo anche nel rivedere 30 volte un film brutto perché più lo rivede più capisce quanto è brutto quindi è importantissimo rivedere le opere ma siccome nel mondo di oggi non si fa non si fa perché a parte noi cinefili la gente non lo fa io conosco persone che gli dici o si riguardano ma l'ho già visto capito ma stasera magari no no l'ho già visto cioè capite rivedere un film è quasi da sfigati per tante persone però andare magari poi in discoteca tutti i giorni vabbè non voglio scusate lo sai lo sapete che io questa vena critica che poi mi parte perché vedo anche molti giovani della mia età che quando dico loro sabato vado al cinema ci torna anche domenica ma anche lunedì e martedì la sera dopo aver fatto i miei lavori dopo aver finito di studiare ma come tutti i giorni al cinema e poi te li rivedi anche tutti i sabati in discoteca quanto costa un biglietto 8 8 euro a parte c'è l'abbonamento e quando bevete i drink in discoteca quanto vi costano ne prendete cinque o sei di fila io rispetto tutti per l'amor di dio ma mi confronto con i giovani della mia età e quindi se poi vedo un autore come nolan che in un modo o nell'altro siccome ti prende per le palle in tutti i modi se lo vuoi capire non fare la figura magari del presunto fesso lo devi rivedere il film allora caspita grande nolan grande nolan che se ne frega della gente perché ormai si vive in un periodo in cui bisogna fare film per le persone bisogna secondare i gusti c'è nola non so se lo sapete sono anni che non guarda più forum recensioni o altro perché lui fa il suo cinema se ne sbatte di quel che pensa la gente perché è un autore è un autore cioè porta quello che ha dentro sul grande schermo quindi tanto di cappello tanto di cappello tenete un film intanto visivamente stupendo emotivamente anche a livello di fomento il fomento che crea durante la visione a livello poi di montaggio di sound design di fotografia ricordiamo che nolan è ricordato anche per girare in pellicola ricordiamo quelle scene d'azione le gira anche con pellicole in climax in altissima definizione all'ultimo grido quindi tenete è stata un'esperienza se voi ora vi aspettate da questa recensione la spiegazione dettagliata di ogni cosa non la trovereste perché ripeto che l'ho visto una sola volta ho capito il grosso ma tutti i particolari sfuggono perché è quello che vuole anche nolan quindi se vi aspettate questo da me vi consiglio la recensione di altri youtuber molto più bravi di me che riescono invece già dopo una prima visione beati loro ad aver colto ogni cosa vi consiglio la loro recensione vi consiglio ad esempio la live che ha fatto anche il mio amico antonio cianci dove ne discute per tre ore insomma se volete andare a vedere dei video dove si spiega tutto proprio in maniera ricostruita al cento per cento con varie visioni anche dei detrattori e degli amanti di nolan allora andate a vedere quei video 4 vedete la recensione mia di una persona che ha adorato questo film che ha capito di trovarsi di fronte ad un grande cinema ad un grande cinema nolaniano fino al midollo e che loda un autore per aver fatto quel che cavolo ha voluto in un periodo in cui questo non si fa più perché conta molto più il parere delle persone imboccare le persone piuttosto che far sì che queste persone imparino studino qualcosa che devo dire a livello anche recitativo questo film mi ha colpito tantissimo john david washington il film di del il figlio il film il figlio di denzel washington robert pattinson nel cast ma perché il nostro kenneth branag assolutamente è un cast straordinario kenneth branag nel ruolo di di sat orbe io penso che che abbia che sia riuscito che abbia riuscito stavo dicendo che sia riuscito veramente a dar vita ad un personaggio iconico iconico davvero insieme a robert pattinson lo so il figlio di denzel washington è stato bravissimo però nel cuore mi sono rimasti questi due personaggi robert pattinson nail e assolutamente il nostro sator robert pattinson bravissimo a cui auguro ovviamente una pronta guarigione visto che purtroppo è stato trovato positivo al coronavirus proprio ora durante le riprese di the batman quindi forza roberto mi raccomando come se tanto potesse ascoltarmi e niente cioè veramente è un film che gioca con il presente con il futuro tenet questa parola palindroma che si legge allo stesso modo anche anche alla rovescia dall'inizio alla fine dalla fine all'inizio tenet da sinistra a destra tenet da destra a sinistra ed è geniale o la cosa del genere in un film in cui si parla di reverse in un film in cui si parla di tornare all'indietro nel tempo in cui si incontrano personaggi nel futuro nel presente anche solo la figata seppur in sala ad un certo punto io non stessi capendo più niente sono sincero perché poi io sono una persona che cerca di cogliere ogni dettaglio no e quindi a volte mi ritrovavo in quella situazione in cui cercavo di comprendere quello che era appena accaduto ma intanto il film andava avanti e non essendo a casa e potendo mettere in pausa portando avanti questo mio ragionamento mi perdevo ciò che avveniva dopo per questo poi mi sono trovato in un gioco mortale tra me e il film in cui non riuscivo a venirne fuori fino a che ho detto paolo spegni spegni il ragionamento goditi quel che Nolan ti vuol far vedere e poi tanto la possibilità di rivederlo ce l'hai me lo comprerò in blu ray non vedo l'ora quindi magari chi lo sa che prima o poi possa arrivare anche un altro video però sicuramente sicuramente è un film che lascia dentro lo spettatore un'adrenalina incredibile a parte la bellezza della fotografia delle musiche di ludwin goransson la fotografia di oit van oitema spero di aver pronunciato quando devo pronunciare i nomi io veramente ho sempre una sincope però il conti il montaggio di jennifer lehm insomma si vede che Nolan ci mette tutto se stesso si vede che Nolan dopo aver abbracciato la fisica con interstellar dopo aver abbracciato la storia con dankir che insomma dopo aver toccato vari generi dirige questo inception 2.0 anche se secondo me inception e superiore però proprio come inception riusci a farmi avere delle difficoltà comprensive alla prima visione ora lo rivedo l'ho rivisto proprio in blu ray ieri sera inception perché mi era presa nuovamente la voglia di rivedermi tutto Nolan e sicuramente inception ora è un film che vedo e non prova alcuna difficoltà comprensiva quindi comunque sono anche film fatti apposta per per regalare tutto ciò allo spettatore la trama quasi viene dopo cioè non so se capite il mio ragionamento se sapete che alla regia c'è Nolan la trama si è essenziale non sto dicendo che non sia da tenere a mente la trama però è come se uscisse un film di scorsese come se uscisse un film di l'antimos il nuovo film di woody allen quando escono questi film io l'ultima cosa a cui penso in questi ultimi anni alla trama perché la regia viene prima di tutto perché se la regia è valida tutti gli altri aspetti fotografici tecnici la recitazione la sceneggiatura la fotografia va tutto di pari passo perché è la regia che trae nel carretto quindi quando io vedo una regia così meravigliosa artistica giustamente anche pompata perché ripeto non vuole creare degli eventi io mi lascio travolgere da tutto ciò il paolo di qualche anno fa la pensavo in maniera totalmente diversa ma era anche un paolo molto più ignorante e acerbo fortunatamente sono cresciuto e come vi sto dicendo tenet è un'esperienza che dovete assolutamente fare in sala prima di rivedervelo in blu ray o altro vedetevelo in sala grazie a tenet il cinema si sta un po riprendendo in un periodo in cui le sale hanno bisogno di essere riempite in cui dopo il periodo tremendo del lockdown i soldi devono arrivare ovviamente ringrazio after 2 seppur non sia un film di mio interessamento tenet e after 2 hanno portato gente in sala perché comunque anche after aveva il pubblico di riferimento le ragazzine ragazzini di quell'età dei protagonisti di after insomma sono andati in massa in sala nolan comunque al suo pubblico di riferimento forse manca una via di mezzo il film per famiglie che potrebbe portare chiunque forse forse dico così film aura aurelio de laurentis potrebbe rischiare e far uscire si vive una volta sola di verdone perché ora al cinema bisogno anche delle famiglie in sala sapete le commedie solitamente possono portare anche le commedie di punta di uno che ha fatto insomma ultimamente anche da ormai da anni che fa la storia della commedia italiana un film del genere potrebbe portare le persone in sala poi ho avuto la fortuna di vederlo in anteprima prima del lockdown però comunque bando alle ciance tornando a tenet ragazzi non c'è molto altro da dire perché ripeto in questa recensione non troverete spiegazioni perché per me è molto più importante parlarvi di quello che sta dietro a quello che è superficiale perché alla fine la trama se io mi soffermassi a parlare solo della trama dopo una sola visione senza aver recepito appieno tutto vi metterei ancora più magari dubbi dentro di voi se invece io vi esorto ad andare a vedere il lavoro di un autore che in maniera autoriale se non lo chiamerei autore ha fatto quel che voleva fare senza impedimenti senza nessuna congettura per far sì che il pubblico potesse allo stesso tempo restare felice nolan fa cosa vuole già un autore che fa una cosa del genere per me guadagna un sacco di punti sicuramente è un film costato tantissimo con degli effetti speciali e visivi della madonna questo questo sound design meraviglioso il sound il suono la musica la colonna sonora una delle esperienze più belle vissute in sala tremavano quasi le poltroncine del cinema tanti hanno criticato anche questo aspetto sonoro giudicandolo disastroso acusticamente parlando secondo me no io ero catapultato all'interno di questa vicenda e anche nei momenti in cui mi perdevo nei meandri della follia nolaniana riuscivo comunque a divertirmi su questa montagna russa cinematografica che è cinema che è cinema ragazzi e quindi che posso dire i miei complimenti a nolan è troppo presto per parlare dell'ultimo capolavoro di nolan è troppo presto per dire che sia il film più bello della sua filmografia è troppo presto anche per criticarlo come sto vedendo fare e quindi l'importante è far passare un bel periodo rivederselo saperlo digerire e poi dopo parlarne con più con più magari con più magari attendibilità già quando farò i 30 video i 30 video il video sui 30 film migliori dell'anno tenet ci entrerà dentro di prepotenza e magari avendolo rivisto perché sicuramente da qui a dicembre me lo sarò rivisto potrò parlarne in maniera più approfondita ripeto se poi volete la spiegazione della trama al cento per cento visto andatevi a vedere anche victor las lo ha fatto dei video molto interessanti dove spiega tutte le sue teorie andatevi a vedere ovviamente nel caso c'è anche michael kane che fa un ruolo piccolissimo però insomma michael kane ormai è uno storico attore fidato per per il nostro nolan e che posso dire un'esperienza straordinaria esperienza straordinaria dove dove insomma le leggi della fisica prendano un senso tutto nuovo è ovvio che quando vedo certe critiche riferite a nolan e ma tutte le cose che sono nel film sono irreali caspita caspita dio buono ma cioè cosa vi aspettavate ad andare a vedere un documentario sull'allunaggio a parte no anche perché se si parla dell'allunaggio per alcuno non è vero neanche quello il nolan se vi ricordate ci 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 macina anche un po su in interstellar quindi ecco quando io penso a voi critici da tastiera che tanto diate nolan poi per l'amor di dio tutti i gusti sono gusti e sicuramente se ne discutemmo avreste 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 tutte le carte in regola per smentirmi per dire la vostra e sostenerla però io sono anche dell'idea che tanti di voi siano propensi a criticare un po per moda perché ormai nella mente hanno un preconcetto che tutto ciò che fa nolan è cacca tutto ciò che fa nolan è sbagliato e non c'è verso di salvarlo e ripeto prima che non capiate non sto riferendomi a tutti voi perché sicuramente c'è chi lo critica e alle sue buone ragioni io dico quelli che per forza nolan uguale merda quelli che criticano così ecco mi ricordate un po l'insegnante della figliola del protagonista in interstellar che discuteva con le professoresse ma che ormai loro erano convinte che l'uomo sulla luna non ci fosse mai stato ecco io potrei discutere con voi quanto voglio ma allo stesso tempo voi non credereste mai che il cinema di nolan sia fatto bene nemmeno nel momento in cui oggettivamente vi sforna un film ben fatto se poi dovete criticare io poi su tenet ragazzi e poi finisco qui la recensione perché non mi va nemmeno di fare parte spoiler perché alla fine quel che avevo da dire l'ho detto se poi criticate perché ragazzi piuttosto che soffermarvi sull'intero pacchetto vi siete soffermati solo sulla sceneggiatura quindi non vedendo tutto ciò che di bello il film offre perché quello non torna quell'altro non torna e quindi il film è brutto io vi ricordo che anche in the prestige si diceva che alla fine noi non dobbiamo cercare le soluzioni dobbiamo lasciarci ingannare è questo che fa il mago ci inganna è questo che fa nolan ci inganna mettendoci dei paletti che inizialmente possono sembrare difficoltoso difficoltosi da comprendere ma poi il risultato del gioco di magia è meraviglioso perché noi se ne continuo a parlare nel bene o nel male cioè quindi cercate di ricordare anche gli insegnamenti del mago in the prestige è e nulla ragazzi detto questo io vi saluto vi ringrazio per avermi seguito lo so che vi aspettavate la parte spoiler dove paolo madonna ragazzi comincia a raccontare che bello quel poi no sinceramente ho amato le scene in cui ci sono questi reverse ci sono questi momenti in cui si torna indietro nel tempo specialmente le scene in cui presente futuro presente passato si intrecciano senza potersi ostacolare specialmente sul finale durante questa guerra non è spoiler questi questi personaggi che si ritrovano a dover affrontare la solita guerra però sia nel passato sia nel futuro sia nel presente scusate e quindi è bellissimo perché poi c'è una ricostruzione certosina di tutto gli effetti visivi sono assolutamente convincenti gli effetti speciali meravigliosi si è dato fuoco a un aereo intero per recuperare un dipinto e nolan gli ha dato fuoco davvero pensa se doveva recuperare due casse d'oro quindi immaginatevi un po voi quanti soldi siano stati spesi l'inizio del film è folgorante con quest'attentato a kiev al teatro dell'opera e che posso aggiungere personaggio di robert pattinson e di e di e di che ne brana personaggi essenziali e fondamentali la fine che fa sator mi è piaciuta da morire senza rivelarla però sapete corrimano dello yacht cioè il dettaglio del boom della botta lì vabbè comunque chi ha visto il film capirà ho sentito male io location stupende non un film un evento molto più di un film grande nolan che ogni volta tieni per le palle questi spettatori che comunque ti continueranno a criticare matte continuo a fare il tuo perché davvero si parla di grande cinema e lo sosterrò sempre ovviamente rispetto ancora lo dico perché so di venir frainteso tutte le persone che mi diranno io l'ho visto e non mi è piaciuto c'è differenza tra una critica costruttiva e una critica dettata dall'odio per nolan molto probabilmente per moda per seguire la massa e poi tra persone che sembrano non conoscersi ma che in realtà forse si conoscevano tra persone che inizialmente non sanno cosa sia l'organizzazione tenet per poi scoprire di averla creata proprio loro stesse beh io direi di concludere questa recensione e dirvi di di andare in sala tenetevi liberi ma tenetevi liberi e andate a vedere questo film del carissimo nolan che ogni volta sa sorprendere un saluto ragazzi ciao ciao fatemi sapere la vostra riempite la sezione commenti dei vostri pareri me l'avete chiesta anche in arabo la recensione di tenet magari non è come quella che vi aspettavate ma ho deciso di soffermarmi su altre cose piuttosto che andare incontro a questi rompicapi della sceneggiatura che mi avrebbero portato magari a fare un video di due ore dove alla fine non si risolveva niente perché ancora il film non l'ho rivisto quindi un saluto e noi ci vediamo alla prossima recensione un bacione